che cosa è decisivo dentro la nostra vita cioè che cosa decide la nostra vita questa è una domanda molto seria perché di vita noi ce n'abbiamo soltanto una ed è importante che noi riusciamo a rispondere a questa domanda chi è che decide che cosa decide passiamo la maggior parte della nostra vita pensando che la nostra esistenza è condizionata da quello che ci accade fatti situazioni persone e in un certo senso è vero e pensiamo che diventeremo liberi il giorno in cui riusciremo a emanciparci dalle situazioni dalle persone dai fatti che capitano dentro la nostra vita non ci accorgiamo però che qualunque cosa succede nella vita ha sempre un inizio e una fine e quindi quel condizionamento per sua natura finisce c'è qualcosa invece di più decisivo che ci accompagna per tutto il resto della nostra vita e non è negli eventi o nelle situazioni intorno a noi ma è dentro di noi la parte più decisiva della nostra vita e nella nostra interiorità permettetemi questa sera di cercare di approfondire tutto questo per rispondere a una domanda che apparentemente sembra lontana dal discorso che sto facendo chi è Gesù ma ho bisogno di inquadrare questa domanda in modo tale che possa toccare la nostra vita e possa toccarla in maniera che la cambi in maniera che la trasfiguri che le dia una direzione nuova vi dicevo che la parte più decisiva della nostra vita è dentro di noi e nella nostra interiorità immaginate che ognuno di noi coltiva un'idea di se stesso se ad esempio si porta dentro un'immagine di sé negativa questa immagine di sé negativa una persona si porta dentro lo condiziona per tutta la vita se tu pensi di non valere nulla anche se prendi dieci lauree tu sarai infelice insoddisfatto perché ciò che condiziona la tua vita non sono le lauree che riesci a prendere fuori di te ma quell'immagine distorta che tu hai dentro di te strutturata dentro di te se tu pensi di essere un fallimento tutti i successi della vita ti sembreranno fortuna casualità o menzogne tu non credi al bene fuori di te se tu pensi di essere un fallimento allora l'unica maniera che tu hai per cambiare davvero la tua vita non è avere un atteggiamento compulsivo fuori di te ma raddrizzare quell'immagine sbagliata che si è costruita dentro di te che cosa pensi di te stesso che cosa pensi di te stessa perché questo è decisivo nella tua vita ma poi c'è un altro aspetto gli altri un padre una madre un fratello una sorella un amico un marito una moglie dei figli noi pensiamo che le persone che ci circondano sì vogliamo bene in un certo senso condizionano la nostra vita sì è vero la decidono ma non perché queste persone sono decisive semplicemente perché hanno quel carattere quella storia ma il modo come noi abbiamo interiorizzato queste persone che diventa decisivo ad esempio se tu ti porti dentro un'immagine distorta di tuo padre anche se tuo padre si converte diventa il santo più importante di tutta la storia del cristianesimo dentro di te continuerà a condizionarti quell'immagine distorta di tuo padre o di tua madre o dei tuoi figli o dei tuoi amici vedete quanto è decisiva la nostra interiorità perché solo quando tu raddrizzi quell'immagine che ti porti dentro cambia anche l'esterno diversamente tutti gli sforzi esterni che facciamo non servono a nulla l'immagine di noi stessi l'immagine degli altri ecco che arriviamo alla parte al cuore stesso di ogni cosa decisiva Dio chi è Dio qual è l'immagine di Dio che noi ci portiamo dentro perché Dio rappresenta il senso della nostra vita il fondamento su cui si costruisce tutta la nostra storia anche se passiamo la vita a dire che siamo atei che non abbiamo fede che non crediamo in niente non è vero la nostra vita si struttura sempre su un senso su un significato questo è Dio che immagine di Dio tu ti porti dentro allora capite che se noi ci domandiamo chi è Gesù la nostra non è una domanda curiosa non vogliamo spiare come degli storici, come degli archeologi come delle persone che devono andare indietro nel tempo a vedere la vita di un uomo che è vissuto duemila anni fa e che questa sera tutti insieme possiamo ammirare, applaudire, prenderci qualche insegnamento no, abbiamo bisogno di dire che Gesù è decisivo soprattutto per come lo abbiamo interiorizzato quel Gesù reale si è impresso dentro ciascuno di noi ma siamo sicuri che quell'immagine di Gesù che c'è dentro di noi è giusta? perché quell'immagine decide la nostra vita, tutta la nostra vita allora noi questa sera in questo tempo così speciale che è il tempo della Quaresima cominciamo un percorso, un cammino qualcosa che dovrebbe convertirci e che cosa significa che dobbiamo convertirci? significa che dobbiamo cercare semplicemente di comportarci bene di essere delle brave persone di decidere di fare qualche gesto di carità la conversione non consiste in questo la conversione è mettere mani alla nostra interiorità è troppo poco mettere ordine fuori di noi abbiamo bisogno di mettere ordine dentro di noi allora quando noi ci domandiamo chi è Gesù dobbiamo cominciare a dire che cosa noi pensiamo di Lui davvero noi cos'è colui che controlla la nostra vita che fa l'elenco dei nostri peccati che ci condanna che la limita che la rinchiude che ci fa provare sensi di colpa che mortifica la nostra gioia chi è Gesù? chi è Dio? quale Dio ci portiamo dentro? quale Gesù ci portiamo dentro? ma soprattutto come facciamo a sapere se l'immagine di Dio che ci portiamo dentro è giusta o è sbagliata? dobbiamo guardare la nostra vita per accorgerci se quell'immagine di Dio è giusta o è sbagliata ma nella storia della Chiesa nella storia del Cristianesimo noi abbiamo sperimentato un aiuto formidabile cioè qualcosa che ci aiuta a avere davvero un'immagine affidabile di Dio dentro di noi e questa immagine affidabile di Dio dentro di noi che può davvero cambiare la nostra vita non viene semplicemente dalla nostra educazione non viene semplicemente dalle esperienze che abbiamo fatto perché magari queste cose possono essere positive quindi benvenga ma possono anche essere negative e come si fa quando tu hai fatto un'esperienza negativa che ti ha segnato interiormente che da quel momento in poi ti ha condizionato come fai a raddrizzare una cosa che si è strutturata dentro di te per questo vedete fratelli e sorelle noi leggiamo il Vangelo per questo tutti noi abbiamo bisogno del Vangelo perché il Vangelo corregge dentro di noi l'immagine distorta di Dio e ci restituisce un Dio oggettivo reale affidabile che spalanca la nostra vita che la cambia sapete il gesto più semplice che Dio ha potuto fare nei confronti del popolo di Israele il più semplice di tutti sapete qual è stato? tirarli fuori dall'Egitto geograficamente prenderli da un posto e portarli fuori ci ha messo una notte il Signore a liberare il popolo di Israele dall'Egitto ma voi sapete che il problema di Israele non era la schiavitù del Faraone era la schiavitù che si portavano nella testa Dio ci ha messo 40 anni nel tentativo di strappare di sdradicare da loro la mentalità da schiavi che si portavano addosso uno pensa cambio posto e quindi cambia la mia vita no deve cambiare qualcosa dentro di te perché se tu cambi posto ma non hai cambiato qualcosa dentro di te in realtà non c'è nessun cambiamento eri schiavo e rimani schiavo noi siamo stati abituati a pensare che la vita interiore la vita spirituale fossero dei passatempo che un gruppo di persone un po' strane un po' originali così come qualcuno va a giocare a golf qualcuno viene in chiesa prega fa qualche esperienza spirituale si può anche fare a meno di questo fratelli è decisivo nella vita di una persona coltivare la propria interiorità perché è lì il punto decisivo di tutta la nostra vita allora mettersi in un cammino di conversione significa chiedere al Signore di restituirci un'immagine corretta di Lui di lasciare che Lui possa disegnare dentro di noi il volto suo quello vero quello reale quello che cambia la nostra esistenza tutti i Vangeli fanno questo ma ce n'è uno uno in particolare che ha proprio questa vocazione primaria ed è il Vangelo di Luca per questo in questi giorni noi ci faremo aiutare da Luca e sentiamo simpatia e sintonia nei confronti di questo evangelista perché come uno di noi non è uno che è andato dietro a Gesù non lo ha visto non lo ha toccato non ha ascoltato direttamente i suoi discorsi non ha partecipato ai suoi miracoli non ha mangiato i pani e i pesci moltiplicati non ha visto Lazzaro tirato fuori dal sepolcro non è un testimone oculare è uno come ciascuno di noi eppure è un uomo che si è lasciato cambiare la vita perché ciò che conta di più nella vita di un discepolo non è semplicemente aver fatto un'esperienza di Gesù alla maniera di Pietro Giacomo e Giovanni ciò che è importante non è aver mangiato o meno quei pani quei pesci la cosa più importante è quel Gesù risorto che ci è stato donato in spirito dentro ciascuno di noi noi siamo abitati dallo spirito di Gesù risorto e questo spirito di Gesù risorto può cambiarci la vita è quel Gesù crocifisso risorto che salva l'uomo vi prego nessuno mi fraintenda se se le parole che sto per usare possono sembrare parole esagerate ma non ci salva un Gesù maestro e basta non ci salva un Gesù che ci spiega quale morale utilizzare non ci salva un Gesù teologico che ci dice delle verità su Dio ciò che ci salva è il mistero di Gesù crocifisso e risorto e dove è questo Gesù crocifisso e risorto nel passato è una storia del passato no è un Gesù presente e attuale e dove lo troviamo noi questo Gesù presente e attuale dice San Paolo nei nostri cuori non nelle nostre emozioni non nei nostri sentimenti ma in quella parte di noi che decide tutta la vita tutta allora se in questo luogo interiore Gesù risplende per ciò che è tutto cambia ma serve anche la nostra parte ad esempio noi desideriamo incontrare un Gesù così desideriamo davvero sapere chi è Gesù realmente non quello che ci siamo noi immaginati di Lui non quello che si è costruito dentro i nostri pregiudizi non quello che abbiamo raccattato un po' sentendo le omelie di qualcuno leggendo qualche versetto del Vangelo la fede è una questione serissima perché è la questione di rispondere a questa domanda chi è Gesù perché se tu rispondi a questa domanda la tua vita ha finalmente un senso un orientamento hai trovato un orizzonte che cambia tutto allora quando tu incontri questa immagine nuova dentro di te cambia anche l'immagine che tu hai di te cambia l'immagine che tu hai dei fratelli delle persone che ami di tutto quel mondo interiore che decide la tua vita che condiziona la tua vita in questo senso la quaresima non è mai qualcosa di esteriore è troppo poco pensare che basta vestire di sacco metterci la cenere sulla testa e dire questa è la quaresima il problema non è quello che mettiamo sui nostri capelli è quello che capita dentro la nostra testa nei nostri ragionamenti la conversione è un cambiamento di mentalità è qualcosa che cambia il nostro modo di guardare le cose di giudicarle e alla fine anche di sceglierle di viverle e non c'è bisogno di essere persone geniali persone che hanno chissà quali titoli di studio persone che sono non lo so di una certa estrazione sociale no fratelli basta essere umani questo è il minimo sindacale che ci permette di vivere il cristianesimo allora immaginate che uno che si legge tutto il Vangelo di Luca legge il racconto di un uomo che non ha incontrato Cristo in maniera diretta ha ascoltato le storie degli altri ma poi tutto questo è entrato dentro di lui l'ha fatto suo lo ha annunciato lui lo ha raccontato lui ha scritto lui un Vangelo che ha questo scopo quello di disegnare di dipingere in ognuno di noi il volto vero di Gesù se qualcuno dovesse domandarvi ma perché dovremmo fare questi tre giorni perché dovremmo fare questo cammino perché abbiamo bisogno di rispondere a questa domanda di capire il volto di quest'uomo e di capire come questo volto si rispecchia dentro di noi e che cosa ci guadagniamo? tutto una persona che è libera ha tutto una persona che è nella gioia ha tutto una persona che è felice ha tutto tutto ciò che gli serve per dire che quella vita è una vita degna allora il primo passo che ognuno di noi deve fare è domandarsi cosa mi porto dentro cosa penso di me cosa penso degli altri cosa penso di Dio e se non riusciamo a rispondere così direttamente con semplicità a queste domande Gesù ci dice ci dà proprio un modo per discernere per capire che cosa ci portiamo dentro dice Gesù dai frutti si riconosce l'albero se tu vuoi sapere se dentro ti porti un albero buono guarda i frutti se i frutti sono buoni allora l'albero è buono se i frutti sono cattivi anche se l'albero sembra buono non è buono e quindi dobbiamo in maniera disarmante chiederci ma io mi amo ma io sono felice chi sono gli altri per me il mio fratello mia sorella sono un impedimento sono uno scalino su cui posso arrampicarmi per raggiungere i miei scopi o sono ciò che mi fa vivere essere felice sono felice di prendere le cose dagli altri o sono felice di donarmi fratelli questi sono tutti frutti che ci dice ci dicono che cosa ci portiamo dentro ma la cosa peggiore di tutti è pensare che noi stiamo vivendo un'esperienza di fede quando invece stiamo vivendo un'esperienza di chiusura di frustrazione di oscuramento della vita quando Dio invece è tutt'altro l'impressione che si ha quando si legge il Vangelo di Luca è quella di un Gesù che con una mansuetudine estrema va ovunque tocca la vita di chiunque anche di quelli che sono considerati impuri lontani perduti questo è il motivo per cui noi diciamo che Luca è l'evangelista della misericordia che cos'è la misericordia? andare a cercare ciò che è perduto dice Gesù io sono venuto per cercare ciò che era perduto per salvare ciò che è perduto per riportare in vita ciò che è morto racconta delle storie delle parabole struggenti nel tentativo non di commuovere o di far emozionare le persone che lo stanno ascoltando ma di metterle in crisi e ci riesce perché sono tutti arrabbiati con lui gli scrivi i farisei i dottori della legge quelli che pensano di aver capito Gesù dicono che è un eretico perché loro sanno che cosa pensa Dio non Gesù guardate è molto pericoloso questo perché noi personalmente possiamo coltivare un'immagine di Dio sbagliata ma a un certo punto questa immagine di Dio sbagliata può diventare comunitaria anche come Chiesa come comunità possiamo coltivare un'immagine di Dio sbagliata e da che cosa ce ne accorgiamo? quando escludiamo ad esempio quando non abbiamo il coraggio di dire le cose con verità ma nella carità quando siamo incapaci di essere vicini a quelli che sono lontani quando pensiamo di diventare impuri semplicemente perché usciamo ma questo non l'ha fatto forse Gesù non è un programma pastorale nuovo diverso è quello che ci insegna il Vangelo il Vangelo ci dice di far questo di andare incontro ad ogni uomo a ogni donna lì dove sono in quello che stanno vivendo e portare lì una prossimità lo vedremo nei prossimi giorni l'atteggiamento di Gesù cosa fa Gesù ma questa sera voglio lasciarvi con un'immagine di Luca che troviamo al capitolo 4 dal versetto 16 al versetto 21 e ve la leggo perché è Gesù stesso a rispondere a questa domanda chi è lui chi è Gesù sentite cosa narra Luca Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere gli fu dato il rotolo del profeta Isaia aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto lo spirito del Signore è sopra di me per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista a rimettere in libertà gli oppressi a proclamare l'anno di grazia del Signore riavvolse il rotolo lo riconsegnò all'inserviente e sedette nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui allora cominciò a dire loro oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato chi è Gesù è uno che porta buone notizie a quelli che pensano di non avere le forze per affrontare la vita che hanno in questo momento davanti a loro il povero è uno che non ha quello che gli serve per vivere e certe volte noi magari qualche soldo in tasca ce l'abbiamo ma non abbiamo le forze la vita che ci sta succedendo in questo momento è sproporzionata rispetto alle nostre capacità alle nostre energie dice Gesù ti senti povero senti che non ce la fai io sono venuto per te per annunciare a te qualcosa non sono venuto per quelli che pensano di non aver bisogno di nessuno per gli autosufficienti per quelli che sono convinti che cadono sempre in piedi sono venuto per te che dopo tutti i sacrifici che hai fatto adesso ti sembra di essere arrivato al limite di non sapere più che passo fare che non sai più quali pesci prendere con i tuoi figli con la tua famiglia che sei stanco perché non trovi un lavoro perché la vita è ingiusta qualunque cosa potuta accadere nella vita di una persona quando una persona è ridotta all'osso non ha più gli strumenti per poter affrontare ciò che gli sta succedendo dice Gesù bene ricordati io sono venuto proprio per te chi è Gesù? è colui che viene a proclamare ai prigionieri la liberazione amici questo non è un annuncio per i carcerati e basta quante volte ci sentiamo prigionieri della nostra vita prigionieri di una vocazione non la viviamo più con gioia prigionieri di certe situazioni prigionieri dei nostri peccati prigionieri di alcuni schemi che ci portiamo nella testa prigionieri di quello che ci accade ci sentiamo in trappola soffocare chi è Gesù? uno che viene e ti libera fratelli incontrare Gesù è un'esperienza liberante non è un'esperienza opprimente ora ditemi la vostra fede cristiana è liberante? vi libera? vi fa respirare? o è l'ennesimo dovere che si aggiunge a tutti gli altri doveri che abbiamo dentro la nostra vita? che ce ne facciamo di un cristianesimo che è un altro dovere aggiunto a tutti gli altri? l'esperienza cristiana è l'esperienza di una liberazione vera profonda radicale è uno che ti toglie le pietre dalle spalle non ti carica macigni eppure sapete qual è il sacramento su cui facciamo più fatica a vivere? la confessione ma dovrebbe essere il luogo dove tu togli i tuoi macigni perché hai paura? perché ci sentiamo giudicati e non è sempre colpa del prete amici eh a volte è colpa di quello che ci portiamo dentro delle nostre percezioni delle cose il peggior giudice della nostra vita molto spesso siamo noi stessi siamo noi che siamo incapaci di perdonarci Gesù è uno che ti libera se ti senti prigioniero chi è Gesù? è uno che dà la vista ai ciechi non vi è mai capitato nella vita di non sapere qual è la cosa giusta da fare o del perché state vivendo questa cosa uno dice io non lo so mi sembra di essere al buio dice Gesù sono venuto per te che non vedi per darti la vista per farti vedere le cose così come sono non così come tu le hai immaginate chi è Gesù? è uno che rimette in libertà gli oppressi allora se prima ci sentiamo prigionieri prigionieri un'altra sensazione è sentirci schiacciati oppressi credo che ognuno di noi debba tornare questa sera a casa non con una risposta ma con una grande domanda che il Vangelo ci sta facendo chi è Gesù? Gesù è tutto quello che vi ho appena descritto e non l'ho descritto io l'ha descritto Luca e non l'ha detto Luca lo mette in bocca Gesù sono parole di Gesù Gesù è questo perché se non è questo significa che abbiamo bisogno davvero di convertirci se è questo chi ci impedisce di prenderci questa roba e di viverla ora non a Pasqua ora questa sera questo è il significato dell'avverbio di tempo che Luca usa fino ad abusare in tutto il suo Vangelo è l'avverbio oggi oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato amici o quello che vi sto dicendo è vero adesso o non è vero non è vero mai lasciamoci evangelizzare lasciamo che il Signore in questa prima tappa rivolga a noi questa domanda accenda una luce nella parte più decisiva della nostra vita che è la nostra interiorità e ci dica cosa pensi veramente di me chi sono io per te e dopo che abbiamo risposto a questa domanda chi sono io veramente invece e se vogliamo che questo suo essere vero si strutturi dentro di noi fino al punto da portare liberazione vista luce felicità senso grazia gioia metteteci tutto quello che volete e tutto quello che trasforma la vita in una festa chiediamo questa grazia al Signore la grazia di non essere liberati dall'Egitto fuori di noi smettiamo di dire al Signore di risolverci i problemucci che ci abbiamo accanto quelle cose le possiamo affrontare anche con la nostra forza la nostra creatività e lì dove non ce la facciamo ci darà Lui la forza per affrontare questo c'è un altro Egitto più importante quello che ci portiamo dentro quella è la schiavitù da cui noi dobbiamo uscire e non basta una notte a volte ci vogliono 40 anni per uscire da quella schiavitù ma affinché questi 40 anni si compiano c'è bisogno di un'unica cosa del primo passo di cominciare di cominciare a camminare ecco voglio lasciarvi proprio con questa domanda volete fare questo cammino e qual è la prova che uno vuole fare questo cammino desiderarlo voi desiderate questo che vi è stato annunciato questa sera perché se non lo desiderate allora tornate a casa e basta non tornate a cercare Gesù ma se lo desiderate il Signore vi darà gli strumenti e la grazia per realizzare questo desiderio e questo ha la potenza del Vangelo e questo il desiderio ultimo dell'Evangelista Luca